Salve ragazzi, sono di nuovo io, MindZero, e oggi sono qui per parlarvi di un nuovo sito. Molti di voi lo conosceranno sicuramente, si tratta di SteamGift. SteamGift è un sito molto simile a PlayBing, ma con funzionalità leggermente differenti, con una probabilità molto più elevata di vincere appunto dei giveaway e anche la possibilità di partecipare a molti, ma molti più giveaway, anche speciali, tra cui quelli di gruppi di Steam, quelli della Wishlist, avrete tante opportunità maggiori di quelle offerte da PlayBing, ma automaticamente anche delle differenze di funzionalità. E io oggi sono qui per spiegarvi tutto quanto, quindi vi lascio il video con la spiegazione di SteamGift. Al video. Ed eccoci qua su SteamGift. Bene, cosa possiamo dire di SteamGift da subito? Bene, SteamGift è un sito di giveaway, dove ogni utente può creare il proprio giveaway e può donare, appunto, un gioco a sua scelta, un fortunato vincitore. Come funziona? Bene, iniziamo dal nostro carissimo account di SteamGift. Ogni persona ha un proprio account con un ruolo, che sarebbe moderatore, membro, admin, quanto tempo è online, la registrazione, il numero di commenti, il numero di scambi fatti, i gift vinti e i gift inviati, con, appunto, la quantità di valore dei giochi vinti e il valore dei giochi puntati. Regalati, tra virgolette. Questi qua sono alcuni dei miei che ho anni fa fatto. Ecco, ci sono invece i trade, che sono quei 19 punti, che sono trade di un sito che parleremo in un altro momento. Torniamo a SteamGift. Allora, intanto per accedere a SteamGift bisogna avere un account con un, almeno, mi pare, 100 dollari o 150 dollari sopra. In che senso? Bisogna avere acquistato, almeno, un gioco o dei giochi che arrivano a questo valore totale. Facciamo sempre il solito subito esempio. Due Call of Duty. Hanno un valore di 50 euro. Il vostro account ha un valore di media, contando tra euro e dollaro, 197-107 dollari. Quindi vi ci verrà qualche gioco, ma se comprate gli Humble Bundle o ne possedete alcuni giochi, anche gratuiti, che avete attivato l'IKEY o altre cose così, vi verrà anche il loro valore. Se hanno un valore non sono free to play, ovviamente. Questa era una piccola nota per come registrarsi a SteamGift. Questo, ovviamente, adesso non lo farò, perché semplicemente sarà scritto in alto a destra, a posto dell'account, Login with Steam. Quindi, molto semplice. Come è diviso il sito? Il sito si può dire che è diviso in quattro sezioni fondamentali. La prima, che è quella in cui ci troviamo noi, è All. Con cui ci sono tutti i giveaway che sono in ordine di scadenza. In che senso? Quelli più sopra sono quelli che scadranno prima, in 51 secondi. Continuando a scendere, vediamo che il tempo aumenta. Andando verso le ultime pagine, troviamo i giveaway che finiranno tra secoli. Tipo qua, abbiamo uno che finirà tra quattro settimane. Poi abbiamo un'altra sezione importante. I group. Cos'è la sezione group? Se voi siete iscritti a dei gruppi di Steam che fanno dei giveaway, potrete appunto partecipare ai giveaway di questi gruppi. In cui saranno ovviamente dei giveaway in cui soltanto i membri di quel determinato gruppo potranno accedere e provare a partecipare. E infine c'è la lista della wishlist. La wishlist sarà la vostra lista di desideri di Steam. Che come tutti quanti i giochi che vorreste avere, che avete scritto nella wishlist, il sito di Steam Gifts ve li mostrerà tutti quanti qua. Ovviamente possono esserci anche della sezione group. Se magari un gruppo ha fatto un gioco che è presente nella vostra wishlist. E infine qua sopra abbiamo i giochi offerti normalmente dal sito, da qualche compagnia o persona importante. Ultimo, francamente secondo me il meno importante, è se ne new. I giveaway appena inseriti. Bene, come fare ad entrare in un giveaway? Potremmo avere un massimo di 300 punti. Come guadagnare i punti? Non si guadagnano. In che senso? Ogni volta che una persona inserirà un giveaway e un giveaway finirà, noi otterremo una piccola percentuale di punti. Non importa quel tipo di gioco sia, tra quanto finirà. Appena il giveaway sarà finito o sarà inserito, non mi ricordo adesso quale delle due, ma non è importante saperlo più di tanto, otterrete questi punti. Come giocarsi ai punti? Noi selezioniamo il nostro carissimo gioco. Adesso prendiamo Mighty Dungeons. Qua c'è scritto il quantitativo di punti che richiede. Ne abbiamo 160. E basta fare Enter giveaway. Premuto. I nostri punti verranno scalati. E noi saremo partecipando a questo giveaway. Ovviamente, come ci sono scritte le descrizioni del giveaway, che poi si dice qualcosa di interessante, tipo come guadagnarlo, se tipo soltanto per una determinata nazionalità, oppure appunto come in questo caso il creatore del giveaway ha inserito il suo Instagram. Ovviamente possiamo anche commentare il giveaway. In questo caso facciamo Thanks, giusto per metterci un commento. E questa cosa praticamente funziona sempre così. Noi prendiamo i nostri giveaway, li apriamo. Se Firefox me lo permette perché si sta bloccando e non è divertente. Grazie. Entriamo, apriamo Enter giveaway. E abbiamo fatto. Funziona così, semplice semplice, niente di complicato. Basta premere fantastico, tasto verde. E noi potremo partecipare a quel bellissimo giveaway. Io vi consiglio una cosa. Di aprire più finestre e fare questo lavoro così. Ovviamente se avete in mente qualche gioco particolare che state cercando, c'è anche la sezione di ricerca. Come fare una ricerca? Lo vedremo subito. Torniamo alla pagina principale. Come fare una ricerca? C'è il fantastico tasto Search. Noi cerchiamo qualcosa. Facciamo ad esempio Payday. Cerchiamo Payday e vediamo se c'è qualcosa con Payday. In questo caso c'è Merry Payday Christmas. E noi ovviamente possiamo aprirlo e partecipare. Facciamo qualcosa altro. Facciamo, scriviamo Dungeon. E ci vengono fuori tutti quanti i giochi che contengono la parola Dungeon. Quindi come Die Hard Dungeon, Dungeon Souls, Dungeon of Dreadmoor, Mighty Dungeons. Le potremo ovviamente aprire e partecipare per cercare di vincere. In sintesi, Steam Gift funziona così. Niente di più, niente di meno. Continuando ad aprirli e cercare di vincerli. Ovviamente non fate come me se avete qualche gioco preciso che volete vincere. Non volete fare come me, che sono in modalità. Per me, qualsiasi gioco che vinco, mi va bene. Ma credo che in fondo tutti quanti sarete così. Tutti voi che stai vedendo questo video e che vi iscriverete. Inizierete a cercare di vincere ogni singolo giveaway che vedete. Giusto per aumentare il valore del vostro account Steam. Oppure avere qualche gioco nuovo da giocare. Infatti come avete visto sul mio account. Adesso mi sono un attimo buggata la... La... L'enter giveaway perché ne ho fatti troppo di fila. Fate finito i punti. Potete anche andare sul vostro profilo e vedere quando... Qua ci sono tutti i giveaway che ho vinto. Un bel po' di giochi, eh. Come far capire quando si è vinto? Entrando nel sito, nella coppa, apparirà una notifica. E ci verrà scritto che abbiamo vinto quel determinato gioco. È inutile che cercate adesso di fattermi le che hai anche se sono qua presenti. Le ho già attivate tutte. Potete provarci ma non ci ricavarete niente. Ok ragazzi, questo era Steam Gift. Non ho niente da aggiungere. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. E qui da Shen barra MindZero è tutto. Alla prossima. Bye bye. Ciao! Ciao! Caliponi, show me love. Get presents, get fucked up. Caliponi, throw it up. Get presents, get fucked up.